Oggi i dati Covid-19 hanno superato i 1030 contagi. Un dato importante anche se da domani un'altra parte della popolazione verrà vaccinata. Parliamo dei bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Migliaia, le prenotazioni già arrivate da tutta la Toscana. I vaccini specifici, sono più piccoli e più calibrati, sono arrivati proprio oggi perché inizierà domattina alle 9. e io alle 9 sarò al Mandela che è uno dei vari luoghi che abbiamo attrezzato anche per gli spazi dei bambini. Del resto c'è una spinta, più di 20.000 prenotazioni e conseguentemente inizieremo proprio a vaccinare con le condizioni psicologiche perché il bambino possa essere nelle condizioni migliori. La situazione è quella di una regione che ha in questo momento, per quello che sono i parametri, una situazione migliore di altre regioni italiane grazie alla vaccinazione. Noi stamani abbiamo visto sostanzialmente poco più di 350 posti letto occupati, è il parametro fondamentale. Arriveremo a Natale senza limitazioni nella mobilità delle persone.